Chiamiamo ora il suo sfidante, lui è uno studente di ingegneria ed entra Gianluigi Per questo messo sono previsti un solo round a 5 minuti, arbitra Giuliano Pernese Bene, presi i punti, stai tranquillo, respira, respira Chiudi quella mezza quanta, entra giù quella gamba e chiudi Rosci per il ginocchio, mettilo su, metti più per il ginocchio Piano piano, un fila del mezzo alle gambe su Fai passare quel ginocchio Chiudi i gol, chiudi i gol Fai passare quel ginocchio Allenta la presa, esce, allenta la presa sul collo Allenta la presa sul collo, respira Respira là Allenta il collo, allenta il collo Allenta il collo, allenta il collo Grazie a tutti.